I vaccini anti-influenzali scarseggiano in tutta la Lombardia e alcuni comuni come quello di Cermenate sono stati costretti a sospendere temporaneamente la campagna a causa della mancanza di dosi. C'è anche chi, tra le categorie fragili che hanno diritto alla somministrazione gratuita, ha dovuto ricorrere al vaccino a pagamento per assicurarsi la copertura in vista dell'inverno. A fronte di tutto questo, Regione Lombardia corre ai ripari e la Giunta, si legge in una nota, su proposta dell'assessore al welfare Giulio Gallera, ha approvato un provvedimento che stabilisce un rimborso pari a 32 euro per i cittadini che rientrano nelle fasce target della popolazione, over 65 e soggetti con particolari elementi di fragilità stabiliti dal Ministero della Salute, che hanno dovuto ricorrere alla somministrazione a pagamento del vaccino anti-influenzale dopo l'avvio della campagna realizzata dalla Regione. Per accedere al rimborso, i cittadini dovranno presentare all'ATS di riferimento la ricevuta del pagamento effettuato e un'autocertificazione che attesti l'appartenenza alla popolazione target. Con la stessa delibera, per raggiungere la più alta percentuale di vaccinazione contro l'influenza per i cittadini che rientrano nelle categorie fragili, la Giunta regionale ha autorizzato l'ATS della Lombardia a stipulare accordi con strutture private accreditate per l'erogazione della prestazione, prevedendo un rimborso pari a 32 euro, 26 euro per il vaccino e 6 euro per la somministrazione.